Senti di fare apologia di qualcosa? In una parola, no. Quando andiamo a Roma, praticamente andiamo a vedere Colosseo, troviamo i soldati vestiti da romani, da centurioni romani, e facciamo volentieri le foto assieme. Qui non si vuole arrivare a questo, però l'intenzione è quella di fare scoprire, ai più che praticamente non lo sanno, una realtà che qui è stata per troppi anni sottaciuta. Praticamente l'associazione è nata quattro anni fa con l'intento di recuperare parte di bunker risalenti in seconda guerra mondiale ed ancora presenti nel nostro territorio. Qui siamo all'interno del compendio termale, dove abbiamo lestito praticamente un checkpoint, una rievocazione con mezzi militari, per far sì di rendere ancora più veritiera e realistica quel racconto che andiamo a fare dell'ultimo anno di guerra. Qui c'era lo stato maggiore della Wehrmacht e praticamente come quantità di personale militare e usiliario si raggiunse circa le 1500 unità. È stato aperto da un gruppo di appassionati, quella collaborazione degli alpini, dei carabinieri con Gedo e di altre associazioni. Questo per far sì, appunto per arricchire un po' quello che era un percorso storico che si voleva fare ancora da qualche anno. Ecco, quindi sono già quattro anni che con l'associazione proponiamo queste visite guidate con certe occasioni comunitari divise in uniforme, che sono praticamente uniforme rievocative dell'epoca della seconda guerra mondiale, però riprodotte in maniera molto fedele, raccontare la storia passo passo. Ecco, non c'è nessuna apologia, come è stato detto, non c'è nessun fanatismo e nessuna nostalgia praticamente di quei periodi. Quando andiamo a Roma, praticamente andiamo a vedere quello seo, troviamo i soldati vestiti da romani, da centurione romani e facciamo volentieri le foto assieme. Qui non si vuole arrivare a questo, però l'intenzione è quella di fare scoprire ai più che praticamente non lo sanno. Una realtà anche qui è stata per troppi anni sottaciuta. Sono ragazzi di 18-20 anni come erano i soldati di allora. Quindi praticamente è un arricchimento che noi abbiamo fatto, solamente dal punto di vista storico, punto e basta. Senti di fare apologia di qualcosa? In una parola. No. Grazie.